Uomini e donne, corteggiatrice spiazza tutti e lascia il trono, ecco il motivo. Nell'ultima registrazione del trono classico è accaduto di tutto in studio. Alcuni giorni fa è stata effettuata una nuova registrazione delle puntate del trono classico e, stando ad alcune anticipazioni, in studio è accaduto di tutto. Dopo l'inaspettato ritorno di Marta, l'altra corteggiatrice Virginia si è alzata dalla sua poltrona e ha deciso di lasciare la trasmissione. A quanto pare la bellissima Stablum non ha apprezzato per niente il comportamento del tronista catanese nel riammettere in studio la rivale. Infatti quest'ultima ha messo da parte l'orgoglio chiedendo una seconda possibilità a Nicolo Obrigante. In questi mesi due ragazzi avevano iniziato ad instaurare un rapporto molto forte e complice, poi rovinato da una segnalazione, che affermava che la giovane era fidanzata da sei anni con un universitario. Il duro sfogo di Virginia nei confronti del tronista siciliano Nicolo Obrigante. Dopo la registrazione effettuata giovedì scorso, Virginia ha fatto un commento molto forte su una precedente foto, che aveva pubblicato sul suo Instagram Stories. I vocaboli utilizzati dalla corteggiatrice non lasciano nessun dubbio sulla sua eliminazione dal trono di Nicolo. La delusione è tanta e per il momento non ha nessuna intenzione di ritornare indietro e fare pace con il catanese. Nel frattempo, tantissimi telespettatori di Uomini e Donne sono certi, che Brigante nei prossimi giorni organizzerà una sorpresa in modo, che la Stablum torni a corteggiarlo. La ragazza, intanto, si è sfogata in questo modo, l'amore costa e Dio ha prezzo, che non tutti sono in grado di pagare. Esaminando la sua affermazione, sembrerebbe che il tronista siciliano forse non sia l'uomo giusto per lei. Trono classico news, Virginia tornerà a corteggiare Brigante? Per il momento Virginia è ferma con la sua decisione, non vuole assolutamente tornare nello studio Elios di Roma. Ma in tutti questi anni di programmazione, il dating show di Maria De Filippi ci ha riservato tante sorprese e molto probabilmente la corteggiatrice potrebbe cambiare idea e presentarsi alla corte di Nicolo. Intanto la rivale Marta, dopo la parentesi legata alla segnalazione, è riuscita a riconquistare la fiducia del giovane siciliano e a far capire a quest'ultimo, che ci tiene veramente a lui. Usciranno dalla trasmissione insieme? A quanto pare la scelta di Brigante è molto vicina. Per conoscere altre curiosità e informazioni sul trono classico e overdi uomini e donne, continuate a seguire questo sito.